Oh, hello children! Che bella sorpresa! Possiamo finalmente vederci! Cosa? How are you today? What? Me? I am happy! Yes, sono così felice perché ho deciso che per passare il tempo posso finalmente giocare! Oh, non con voi! Siete tutti a casa? Ma con i miei puppet! Come voi! Allora, ho deciso di giocare con Lizzie! Hello children! Tommy! Hello children! E poi, guardate chi c'è qua! Tanti miei amici! Amici che voi conoscete e amici che voi conoscerete! Allora, Mr. Crocodile! And a little bunny here! And here is a teddy bear! Rudolph, the finger family! And snowman, a pie! A boy! And a girl! And a new friend! What? Teacher! Oh! Well, who's here? Oh! And here is our naughty friend! Crazy monkey! Say hello to them! Hello children! Hi! I want to see you again! Hi! Bye bye! E allora, bambini! Cosa ne dite se intanto facciamo questa canzone che tutti conosciamo e la cantiamo insieme? D'accordo? Allora, pronti? Attenti? Via! Allora, adesso ricomincio e tutti insieme la cantiamo! Allora, adesso ricomincio e tutti insieme la cantiamo! Stomp! 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 Stomp Just a kiss for you. A kiss.